Formalmente aveva la sua sede all'estero, ma in realtà operava in Italia, cercando così di trarre dalla sua condizione risparmi fiscali. A finire nel mirino dei finanzieri della compagnia di San Giovanni Valdarno, una società di trasporto bulgara estero vestita, ossia con una fittizia localizzazione della residenza fiscale all'estero in un paese fiscale più vantaggioso di quello nazionale, ma priva di organizzazione per lo svolgimento dell'attività commerciale dichiarata e di autonomia gestionale. Le indagini avevano preso avvio dall'attività di prevenzione degli illeciti nel sistema finanziario, condotta sul conto di una società di diritto bulgaro con sede dichiarate in Sofia, ma che, dalle ricerche delle fiamme gialle, aveva il centro direzionale in Valdarno e che faceva parte di un importante gruppo di imprese coordinate da una holding ed attive nel settore dei trasporti in paesi europei. La ricostruzione documentale svolta dai militari ha permesso di classificare la società appunto come estero vestita e a scoprire gli illeciti. Le indagini dei finanzieri hanno infatti portato a scoprire il giro illegale e a ricondurre a tassazione in Italia redditi per oltre 22,6 milioni di euro, con un'evasione dell'IVA per 4 milioni di euro e di IRAP per circa 300 mila euro. I militari nei giorni scorsi hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Arezzo nei confronti della società di diritto estero ricondotta sotto tassazione del fisco italiano, sequestrando beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 2 milioni e 100 mila euro. I due principali indagati, entrambi di nazionalità italiana, individuati quali amministratori di fatto della società estera, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per reati fiscali.